Un altro gatto seviziato e siamo a due in meno di due giorni. I proprietari lo hanno portato mercoledì pomeriggio presso l'ambulatorio veterinario casmeneo di Comiso legato con un fil di ferro intrecciato attorno ad una zampa. A dire dei dottori Emanuele Occhipinti e Gianni Ragusa che stanno curando l'animale l'intreccio era molto simile a quello del gatto nero ritrovato a Vittoria e stato difficile anche toglierlo. Era talmente stretto che il gatto stasera verrà operato. L'arto deve essere amputato perché è andato in cancrena. Il ritrovamento è avvenuto nelle campagne tra Comiso e Vittoria. Il dottore Occhipinti ha raccontato di essere rimasto scioccato quando i proprietari del micio gli hanno raccontato di avere visto il servizio sul gatto crocifisso a Vittoria. Ci ha contattati per denunciare l'accaduto. Mercoledì pomeriggio ci è stato portato questo gattino che presentava praticamente un cappio nell'arto in uno degli arti posteriori. Il cappio che sicuramente era stato forgiato dalle mani di un professionista in quanto realizzato con un filo d'acciaio abbastanza sottile è impossibile da levare per il gattino. I proprietari hanno trovato il gattino che era scomparso da circa 24 ore nelle campagne tra Comiso e Vittoria. Sicuramente perderà l'arto interessato dal cappio in quanto la circolazione è venuta a mancare, si pensa, per un arco di tempo che va dalle 24 alle 48 ore appunto. Per adesso è sotto stretto controllo, sta facendo una terapia antibiotica. Lo deniamo sotto osservazione ma la prognosi per quanto riguarda l'arto interessato rimane comunque riservata se non in fausta. Secondo lei è stato anche impallinato oppure no? Ma non abbiamo fatto nessun tipo di controllo in questo genere sull'animale in quanto l'animale comunque non presenta segni di possibili pallini nel corpo. Comunque non so se i due episodi possono essere correlati. E' vero è che ogni anno nell'approssimarsi della stagione venatoria appunto questi atti in un certo qual modo aumentano quindi non so se possono essere correlati gli episodi. Voi avete mai ricevuto degli animali impallinati qui in ambulatorio? Sì, fino a ieri c'è arrivato un cagnolino impallinato dal proprio proprietario mentre cercava di prendere un coniglio.